Io vivo da 23 anni in Umbria, in alta collina, ho vissuto per anni in una casa in affitto, poi quando ho avuto la fortuna di pubblicare il vado di Porto al Cuore mi sono comprata una casa, piano piano l'ho messa a posto, e ora da 14 anni abito qui e ho potuto piantare tantissimi alberi, quindi ho desiderato di avere un terreno mio in cui piantare frutteti, oliveti, boschi, in cui avere molti cani, quando in un affitto non può avere molti cani, al massimo uno, insomma avere un mio piccolo pezzo di terra da trasformare in un'arca di Noè. Mi occupo personalmente di tutta la campagna, dunque questo è un enorme lavoro, un grande impegno, perché la campagna non permette riposi, non permette, cioè bisogna seguire il suo ritmo. Mi dà una grande soddisfazione se riuscita, essendo io una cittadina assolutamente ignorante di cose agricole, essere riuscita a piantare un'attività per cui la fattoria si sostiene con il suo cibo.